Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Ha sparato da una distanza ravvicinata Andrea Marchionni, non più di mezzo metro. Un colpo secco a bruciapelo, finito dritto nella fronte della cognata Marina Luzzi, che non le ha lasciato scampo, e quanto emerso dall'autopsia sul corpo della mamma di 40 anni che si è svolta all'obitorio di Fano, al termine della quale il magistrato ha concesso il nulla osta per i funerali della donna che si terranno questo pomeriggio alle 16 nella chiesa di Santa Maria, ausiliatrice di Fossombrone. Marchionni, 47 anni, sottoposto in giornata davanti al GIP del Tribunale di Urbino all'udienza di convalida dell'arresto per omicidio volontario, era inchiuso nel carcere di Villa Fastigi. Una tragedia avvenuta martedì mattina nella villetta bifamiliare in via Pirandello, nelle campagne di Fossombrone. L'uomo, che abitava da solo al piano superiore dell'abitazione, avrebbe sparato a bruciapelo quando la cognata gli apparsa sull'uscio di casa al piano terra della villetta, dove viveva insieme al marito Enrico e alla loro figlia di due anni, che al momento dello sparo si trovavano nella piscina casalinga. Il 47enne deteneva legalmente la pistola semi-automatica con la quale ha confessato di aver ucciso Marina, presentandosi alla caserma dei carabinieri impugnando ancora la beretta 98. Aveva ottenuto la licenza di detenzione di arma a uso sportivo. I carabinieri del nucleo investigativo, coordinati dalla procura urbinate, hanno sequestrato all'uomo il pc e il cellulare, contando di poter trovare nelle memorie risposte anche parziali sul movente dell'omicidio, ancora ignoto. Gli investigatori hanno escluso motivi passionali ed economici, non ci sono mai stati di verbi familiari sfociati in segnalazioni formali o interventi. Si scava nella vita di Marchionni, una figura introversa e sfuggente, senza relazioni stabili e legami di amicizia, che svolgeva lavori saltuari coltivando la sua passione per la pittura come autodidatta. Nel 2019 la madre, alla quale era molto legato prima che lei si trasferisse, lo aveva spinto ad allestire una mostra. Il covid aveva poi azzerrato tutto, isolandolo sempre di più in quell'appartamento di via Pirandello, fino al tragico epilogo di martedì mattina.